Grazie a tutti. A cinque mesi dall'apertura della variante di Morbenio della Nuova 38 i primi bilanci sul commercio, fino a meno 30% dell'introiti in via Stelvio in controtendenza al centro. Palazze di Moristoriche di Teglio fanno incetta di visitatori con le giornate fai di primavera. Nei fine settimana la località protagonista della cultura locale. Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con informazione di Telesondrio News. C'è la cronaca in apertura. Grave incidente oggi pomeriggio all'elisuperficie di Caiolo. Un aliante condotto da due uomini di nazionalità tedesca si è schiantato sul vicino campo da golf in fase di decollo. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro. Vediamo il servizio. Grave incidente oggi pomeriggio poco dopo le 15 presso l'aviosuperficie di Caiolo. Un aliante trainato da un mezzo motore mentre si trovava in fase di decollo si è schiantato sul vicino campo da golf. Cosa sia accaduto di preciso non è al momento dato sapere, essendo la dinamica del sinistro al vaglio dei carabinieri di Sondrio intervenuti per i rilievi di rito. Quel che è certo è che l'ultraleggero è planato a pochi metri, circa 150, dal termine della pista di decollo poco dopo le reti di quest'ultima. A bordo due appassionati di volo a vela di nazionalità tedesca. Due uomini di 52 e di 66 anni che sono stati subito soccorsi dal personale a Reu e trasportati all'ospedale di Sondrio in codice giallo di gravità medio-alta. Per quanto potuto apprendere non sono in pericolo di vita, anche se gli accertamenti sono in corso non è ancora nota la prognosi. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco di Sondrio che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'aria e ripulire il terreno dove è traccimata la benzina contenuta nel piccolo vano motore dell'aliante, riferito di carburante da utilizzare nei rari casi in cui se ne presenti la necessità. Ancora cronaca. È stato assolto per vizio totale di mente, sancito da tre perizie psichiatriche. Michele Bordoni, 28 anni di poggi ridenti, incriminato per strage per essersi catapultato con la propria auto in piazza Garibandi il 9 dicembre 2017, travolgendo e ferendo tre persone. Nessuna di queste si è costituita parte civile e il giovane è sempre rimasto e tuttora si trova nelle caceri di via Caimi. Con rito abbreviato è stato giudicato e assolto venerdì scorso dal giudice Fabio Giorgi che ha stabilito per lui il ricovero per cinque anni presso una REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza ex ospedale psichiatrico giudiziario a medio-alta intensità, dove attualmente non ci sono posti disponibili per cui sarà il Dipartimento di Salute Mertale della AST, Valtellin, Altolario, a fornire indicazioni utili sulla sua destinazione. Dal canto suo il difensore Francesco Romualdi, che aveva chiesto il ricovero in una struttura di intensità più contenuta, attenderà le motivazioni della sentenza disponibili entro 60 giorni per valutare un eventuale ricorso in appello verso la misura restrittiva. A seguito della recente ondata di furti in abitazione che ha interessato la città di Sondrio e il suo Interland, il questore e il comandante provinciale dei Carabinieri hanno presentato il bilancio dell'attività di contrasto svolta in questi primi mesi dell'anno. Vediamo il servizio. Cresce la preoccupazione dei Sondriesi in seguito alla raffica di furti in abitazioni che ha interessato il capoluogo martedì scorso con quattro colpi messi a segno in poche ore dalle 17 alle 23. Un raid che ha sortito l'effetto di far alzare la guardia e di indurre la prefettura ad approfondire il tema interpellando le forze di polizia in merito all'attività di prevenzione e repressione in essere, che è costante e tesa a contrastare qualsiasi possibile escalation del fenomeno, peraltro in contrazione. Da quanto riferisce la Questura, dal 2018 al 2017 si è registrato un rilevante decremento dei furti. Quelli avvenuti in abitazione nel 2017 sono stati 49, mentre nel 2018 41. Nel periodo che va dal 1 gennaio al 21 marzo di quest'anno invece sono stati 11. Numeri che testimoniano l'intensa attività di prevenzione posta in essere dalla Questura, che nel 2018 ha controllato 13.883 soggetti, 7.234 veicoli e denunciato 27 persone. Nel 2019 invece sono stati controllati 2.741 soggetti, 1.423 veicoli, denunciate 8 persone e 2 fermati. Nei primi tre mesi dell'anno in corso in Questura sono stati denunciati 10 furti in abitazione avvenuti nel capoluogo e nell'immediato Interland, sui quali sono in corso indagini. Anche dal Comando Provinciale dei Carabinieri giunge conferma della diminuzione dei furti in genere e di quelli in appartamento in particolare nel corso del 2018. Sul piano repressivo si è registrato invece un incremento di circa il 32% dei furti scoperti, procedendo nei confronti di circa 300 persone tra denunciate in stato di arresto e stato di libertà, di cui 17 per furto in abitazione. Sul piano del controllo del territorio sono stati sviluppati circa 13.000 servizi preventivi, procedendo all'identificazione di 43.000 persone ad un controllo di quasi 33.000 autovetture. Dal 1 gennaio al 20 marzo di quest'anno sono stati denunciati presso i carabinieri 8 furti in abitazione commessi nel capoluogo e nell'immediato Interland. Per uno di questi le indagini dell'arma hanno già consentito di individuare e deferire il stato di libertà i presunti autori alla locale procura della Repubblica. Infine, nell'anno in corso, si sta riponendo ancora più attenzione all'attività preventiva. Nel primo bimestre si è garantito un incremento di oltre il 18% dei servizi esterni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Da domani Sondrio avrà un nuovo questore. A ricoprire il ruolo svolto dal giugno 2016 da Gerardo Acquaviva, che prenderà servizio sempre domani a Pavia, sarà Angelo Giuseppe Re. Attualmente vicequestore a Monza, in carico che ha ricoperto per quasi 5 anni, Re giunge nel capoluogo valtellinese dopo aver ricevuto la promozione alla qualifica di dirigente superiore. Con l'apertura della nuova variante di Morbenio, il commercio della città del Bito ha subito effetti negativi, soprattutto per quanto riguarda gli esercizi posti sulla statale. Meglio va nel centro storico, dove anzi l'affluenza è in aumento. Vediamo il servizio di Simone Belletti. Siamo tornati in città cinque mesi dopo l'apertura della variante di Morbenio, avvenuta lo scorso 29 ottobre. La nuova statale 38 è un'opera fondamentale per la viabilità valtellinese e Valchiavennasca, voluta dal territorio. Il suo avviamento ha influito sulle attività commerciali dell'area morbenese, in modo non univoco. I punti vendita situati sulla strada statale hanno risentito del cambiamento, soprattutto per la minore viabilità. Quelli nel centro di Morbenio non hanno notato particolari variazioni nei loro profitti. Secondo i proprietari degli esercizi commerciali posti sulla statale, la viabilità è decisamente migliorata, ma i consumi e i clienti sono diminuiti. Noi abbiamo avuto una perdita del 30%, 30% sui consumi, visto che la gente, logicamente, cosa fa? Fa Borneo e Milano. Noi prendevamo tutto il lavoro, il lavoro del ritorno, perché essendo un negozio sulla destra, trovavano tutti i prodotti tipici. Meglio come viabilità, relativamente in peggio come commercio. Capitava spesso che i milanesi e i bilanzoni si fermassero per fare tende per le loro case in montagna o per altre cose. La nostra attività contava molto sul passaggio della statale, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori che vengono dall'esterno della Valtellina. A noi giocava tanto il fattore della colonna che qua si creava comunque sempre negli orari di rientro a casa e di fine lavoro. Nel centro cittadino, l'apertura della nuova variante di Morbegno non ha modificato il flusso di persone nelle varie attività commerciali. Alcuni titolari dei negozi hanno perfino registrato un incremento di clienti nel fine settimana, provocato da una migliore viabilità sulla statale. A loro avviso, le persone che arrivano dai paesi limitrofi sono più incentivate a fare un giro nel centro storico, non dovendo più subire rallentamenti. Per quanto concerne le attività commerciali della periferia, non sono state riscontrate grosse variazioni in termini di flusso di clientela. Per quanto riguarda la strada, sì, ok, qualche duno di passaggio da Milano, ma proprio numeri bassi, ma non ha dato nessun fastidio. Il traffico, sì, ok, di via Contalpini c'è sempre nessun numero di chi passa, torna, va. Nonostante io abbia il mio punto vendita vicino alla statale, non ho notato un grande cambiamento del traffico. Cambio al vertice della categoria dei lavoratori della comunicazione della CGL di Sondrio e Claudio Bottà, il nuovo segretario generale. L'elezione è avvenuta il 22 marzo scorso. A passargli il testimone Michela Turchatti, segretario uscente e ne ho eletta segretaria generale della funzione pubblica. Attualmente Bottà è componente della segreteria confederale della Camera del Lavoro di Sondrio, in qualità di segretario organizzativo ed ex segretario generale della funzione pubblica, sempre di Sondrio. Record di visitatori per le giornate FAI di primavera a Teglio. Circa 4.000 persone lo scorso weekend hanno raggiunto la patria del Pizzocchero per scoprire palazzi, dimore, nobiliari solitamente chiusi al pubblico, etinerari dedicati alla tradizione agricola locale. Servizio di Gabriele Garbellini. Sapiente commissione, frantichi saperi, tradizione contadina e bellezze architettoniche e il viaggio in due giorni proposto dal FAI, che ha portato a Teglio ben 4.000 visitatori entusiasti. Palcoscenico a cielo aperto, sabato e domenica, sulla ricazza del patrimonio storico artistico Tellino. Tre differenti percorsi, palazzi nobiliari, tradizione agricola, con la visita dei borghi di Nicola, Boalzo, San Giovanni e la scoperta dei mulini. Porte spalancate, nelle limone, solitamente chiuse al pubblico o difficilmente accessibili. 11 luoghi aperti, 5 chiese e 5 palazzi storici. Le persone hanno confermato che in Italia c'è ancora attenzione per la cultura, per l'arte e per la tradizione, perché proprio qui a Teglio con le giornate di primavera abbiamo messo insieme la storia anche nobiliare di un comune come Teglio e invece la cultura contadina, la tradizione rurale. Questo è il primo anno a Teglio dopo ben 10 anni che ritorna il FAI. Siamo molto felici perché comunque l'affluenza della gente è veramente tanta. FAI è amministrazione comunale insieme per veicolare l'immagine culturale del territorio Tellino, scrigno di tesori e per sensibilizzare la coscienza artistica di residenti e turisti accolti dai giovani apprendistici Ceroni, 150 studenti della primaria e delle scuole secondarie di primo grado di Teglio e Valgella. è una soddisfazione enorme quindi non mi posso esimere da ringraziare veramente tutti quelli che ci hanno messo il cuore e l'anima per organizzare questa giornata. Il comune di Teglio ha accolto con grande favore l'invito del FAI perché le giornate del FAI di primavera fossero a Teglio e l'amministrazione è stata veramente felicissima di accogliere questo invito e soprattutto di aprire tutte le porte non solo del paese ma del comune intero al FAI. In uno scenario mozzafiato le preziosità di Teglio e il loro massimo splendore da Palazzo Cattani-Morelli vera per la FAI e chicca per gli iscritti alla Torre del Castello in Pineta le antiche prigioni a Palazzo Beste e a molti altri e ancora le mostre dalle cartoline d'epoca alla rassegna fotografica alla moda dvegia al Museo di Abiti Storici e ai Canti. Devo dire che oggi è stata una giornata splendida perché nonostante io sia una valtellinese doc ho scoperto dei gioielli incredibili in Teglio nonostante ci sia venuta tantissime volte grazie al FAI devo dire che mi arricchisce ogni volta un successo grazie anche alla valida sinergia fra pubblico e privato nota rivelatasi determinante per la piena riuscita di uno o due giorni da incorniciare. è disponibile presso tutti gli uffici Infopoint dal 18 marzo scorso la guida e-bike in Valtellina 90 itinerari con e-mountain bike in provincia di Sondrio promossa e realizzata dalla provincia di Sondrio e curata da Federico Pollini la pubblicazione è consultabile anche presso tutte le biblioteche provinciali descrive 90 itinerari da percorrere in sella alla mountain bike elettriche dal passo dello Spluga al passo dello Stelvio e si rivolge a tutti coloro i quali turisti e residenti in sella a una e-mountain bike desiderano conoscere percorsi e panorami della Valtellina pedalando lungo sterrate e sentieri in tutta tranquillità e sicurezza tutti i percorsi saranno a breve disponibili e scaricabili comprese le tracce GPX dal sito valtellina.it la pubblicazione va incontro alla crescente richiesta di turisti appassionati di cicloturismo che con il supporto tecnologico di batteria e motore potranno raggiungere con le e-bike mete finora solo sognate reso conto di fine stagione ma anche le novità per quell'entrante nella cena annuale dell'Hockey Club Chiavenna di sabato a Gordona con l'allenatore Pavel Kavcic ago della bilancia che ha deciso di rimanere al fianco del team e di portare a termine così il duro lavoro di reclutamento fra i più piccoli e di crescita della prima squadra iniziato quest'anno in servizio grande festa sabato sera per l'Hockey Club Chiavenna che ha riunito al Bosco delle Fate di Gordona i 23 atleti della prima squadra ma anche tutte le compagini giovanili gli under 17 che hanno giocato nelle fila del Real Torino gli under 13 protagonisti del campionato interregionale nei Diavoli Sesto e nel Milano Rosso Blu gli under 7 9 e 11 e gli under 10 che si sono confrontati in tornei con gli agguerriti team svizzeri un vivaio su cui la dirigenza guidata da Enzo Bonazzola presidente conta molto per assicurare ossigeno e continuità alla prima squadra uscita a testa alta dal campionato nazionale IHL Divisione 1 battuta di misura ai play-off dal fortissimo Vip dal Vipiteno a sostenere lo storico sodalizio sportivo i tanti tifosi della Curva Capiola di cui è portavoce Walter Rossotti sempre vicini in casa in trasferta alla squadra un tifo su cui la società e l'allenatore Pavel Kavcic contano molto per dare vigore ai ragazzi quasi tutti chiavennaschi aspettiamo con ansia la prossima stagione perché ci saranno delle novità a livello di squadra e penso che anche a livello di infrastrutture perché si spera noi speriamo tutti e tifiamo che dato che a dicembre ci saranno le Olimpiadi dei sordomuti venga effettuato qualcosa di interessante per il nostro palazzo ci vuole una grande motivazione infatti per seguire la squadra di casa per oltre due ore al freddo al gelo del palazzetto ripagati però da uno spettacolo altamente adrenalinico che gli atleti in campo capitanati da Davide Marafio sanno assicurare supportati come sono dall'Ola allenatore Pavel Kavcic 37 stagioni che ha deciso di restare ancora al fianco dei verde-blu ho promesso a tutti i giocatori se parliamo di prima squadra che tutti rimangano rimangano normalmente in certe condizioni io voglio aggiungere ancora qualche piccolo in senso giovane obiettivo è un duro lavoro perché ok specialmente nostra nostra attività come ok con fronte a altre attività è una di quelle che chiede di più la continuità ci darà la garanzia di poter incrementare ulteriormente lo sforzo che abbiamo fatto quest'anno ma soprattutto avere dei risultati che certamente i proseguenti in questo modo arriveranno quest'anno sarebbe sufficiente che fare entrare in squadra alcuni under 17 già quasi in prima squadra guidati da Monica Geronimi poi hanno sfilato tutti i piccoli atleti fino all'under 11 per le premiazioni gli under 13 gli under 17 per dare spazio poi alla prima squadra introdotta dallo storico coach Lucio Guanella parole di apprezzamento e di ringraziamento infine per Caldo Marolda storico medico dell'Hockey Club Chiavene responsabile del pronto soccorso del posto e per il masso fisioterapista Simone Paternostro per i genitori dei ragazzi e per gli sponsor senza peli sulla lingua ai più piccoli dell'Hockey che non hanno dubbi sul loro futuro vuoi proseguire con l'Hockey? Direi tutti lo vogliamo volete arrivare in prima squadra? sì in che squadra? Chiavenna Chiavenna La regione Lombardia su proposta dell'assessore all'agricoltura alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane le risorse saranno destinate alle comunità montane per imprese cooperative agricole forme associative di produttori agricoli e di imprese per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti proprietari pubblici privati di Alpeggi alla comunità montana dell'Alta Valtellina andranno 127 mila euro a quella di Morbenio 152 mila euro a Sondrio 176 mila a Tirano 128 mila e a Chiavenna 102 mila euro ed ora il calcio è terminata in parità la sfida fra il Sondrio e la Virtus Bergamo disputatasi ieri alla Castellina un pareggio che avvicina agli uomini di Mr. Nordi all'obiettivo salvezza ora più nove sulla zona play out vediamo il servizio Sondrio sempre più vicino alla salvezza in una sfida sulla carta insidiosa i biancazzuri di Mr. Omar Nordi hanno paraggiato per 0-0 alla Castellina contro la Virtus Bergamo nella 28esima giornata del girone B di Serie D un punto che permette al Sondrio di salire a nove lunghezze di vantaggio sulla zona play out la partita è stata ricca di emozioni e di occasioni da gol subito pericoloso il Sondrio al secondo minuto con Beltrame il cui tiro a giro spiora il palo poi la Virtus Bergamo a creare maggiori grattacapi alla difesa locale al 14esimo Monni ruba palla a Baggi e si invola verso la porta ma viene fermato da Lassi in uscita al 33esimo gol annullato agli ospiti protagonista ancora Monni che di testa infila Lassi ma la sua posizione è irregolare per i valtellinesi da segnalare una ripartenza condotta alla Cannatare che libera delle spinisse al tiro deviato da un difensore sull'esterno della rete al 44esimo la più ghiotta opportunità per la Virtus Bergamo Monni di testa c'entra al palo nella ripresa al quarto nuovo legno per i bergamaschi passata la paura è il Sondrio a fare la partita un gran tiro di Beltrame dalla distanza esce a lato di un soffio successivamente nel giro di pochi minuti i biancazzurri vanno vicinissimi al vantaggio prima con Valtulina al 22esimo ben servito da Della Cristina che da buona posizione non trova la porta poi è da Muri a colpire il palo a botta sicura al 25esimo alla mezz'ora si fanno vedere gli ospiti con Calli ma Lassi è decisivo in uscita al 40esimo ancora il portiere biancazzurro a fare buona guardia sulla punizione dal limite di Mere Galli Paolo Beltrame grande protagonista della stagione del Sondrio è apparso soddisfatto per il pareggio ottenuto la partita di ieri sostanzialmente per me il risultato è giusto è un pareggio che comunque muove la classifica è un pareggio che serviva entrambe le compagini però è stata una partita secondo me divertente con parecchie occasioni sia da una parte che dall'altra nonostante il primo grande caldo di stagione che sicuramente ha penalizzato entrambe le squadre perché c'è stato un dispendio fisico non indifferente ho trovato una società sana e sicuramente stiamo facendo qualcosa di importante perché comunque un campionato del genere adesso siamo a 37 punti una squadra neopromossa in un campionato molto difficile perché comunque soprattutto le prime 5-6 della classifica sono davvero squadre quasi di categoria superiore io sono molto contento noi siamo un gruppo giovane ma sicuramente appunto la nostra forza è stata sempre il gruppo ma non dobbiamo mollare manca ancora l'ultimo mattoncino per la salvezza matematica l'arma dei carabinieri della provincia di Sondrio sotto la guida del comandante colonnello Emanuele De Ciuceis con la collaborazione dell'ufficio scolastico territoriale indice un bando rivolto ai giovani sul tema l'arma dei carabinieri nella provincia di Sondrio alla base dell'iniziativa la diffusione della cultura della legalità verso gli studenti valorizzando e promuovendo un confronto costruttivo che porti all'educazione del rispetto delle regole per partecipare al concorso libero e gratuito le scuole dovranno presentare i propri laborati rispondendo al bando pubblicato sul sito dell'ufficio scolastico territoriale di Sondrio entro il 10 maggio prossimo ai ragazzi il compito di realizzare le proprie opere attraverso disegni scritti e rappresentazioni come ogni lunedì ora Chris Basetta ci racconta la domenica calcistica ben conclusa si sentiamo terminato un altro weekend calcistico eccoci come ogni lunedì ai risultati di questo fine settimana partiamo dalla serie di undicesima giornata di ritorno Darfo Buario Ambrosiana 0 a 3 Caronnese Ciserano 3 a 4 Rezzato Como 0 a 1 Prosesto Legnago Salus 2 a 3 Pontisola Mantova 2 a 3 Caravaggio Alginatese 3 a 2 Villa Franca Veronese Scanzorosciate 0 a 1 Seregno Villa Dalmè 1 a 1 Sondrio Virtus Bergamo 0 a 0 Il Sondrio pareggia e si trova 37 punti in classifica Campionato di promozione undicesima di ritorno Colico Derviese Casati Arcore 1 a 2 Aurora Calcio Altabrianza Tavernerio 1 a 2 Luciano Manara Barzago 2 a 0 Basiano Masate Dipo Vimercatese 1 a 2 Brianza Cernusco Merate Lissone 0 a 0 Biassono Menaggio 4 a 1 Speranza Grate Viberonchese 1 a 2 Concorezzese Visnova Giussano 0 a 1 da segnalare la Colico Derviese a 31 punti in classifica La prima categoria undicesima di ritorno albiattese Besana Fortitudo 2 a 1 Galozio Corte Chiavennese 2 a 0 Berbenno Cosio Valtelino 1 a 1 Olimpic Morbegno Costa Masnaga 1 a 2 Arcadia Dolzago Dubino 4 a 1 Olimpia Grenta Giovanile Canzese 1 a 1 Ars Rovagnate Grosio 5 a 0 Vedugio Missaglia Maresso 0 a 2 Missaglia Maresso in prima posizione in classifica con 52 punti 49 Arcadia Dolzago 44 Ars Rovagnate e Costa Masnaga 43 Olimpia Grenta 41 Vedugio e Olimpic Morbegno 40 Chiavennese 39 Berbenno 36 Giovanile Canzese 34 Cosio Valtellino 31 Calolfio Corte 25 albiattese 19 punti Grosio e Besana Fortitudo in fondo 18 punti Dubino La seconda e terza categoria undicesima di ritorno Valchiavenna Albosaggia Ponchiera 3 a 1 Sport Club Dongo Altolario 0 a 1 Atletico Cosio De Lebio 1 a 3 Sondalo Penta Piateda 0 a 10 Bormiese Piantedo 2 a 0 Valmalenco Polisportiva Villa 2 a 3 Prata Calcio Livigno 1 a 1 Ardenno Buglio Talamonese 2 a 2 Riposava la tiranese 55 punti in classifica per Albosaggia Ponchiera 44 per Valchiavenna e Bormiese 41 tiranese 40 Talamonese 38 Sport Club Dongo e Altolario 37 Polisportiva Villa 36 Valmalenco 32 Ardenno Buglio 29 Penta Piateda 28 Piantedo 21 Prata Calcio De Lebio 16 Livigno 11 Atletico Cosio 5 punti Sondalo Ed era questo L'ultimo servizio del nostro giornale Vi do appuntamento alle prossime edizioni Vi ricordo che ci potete rivedere sul sito www.radiotsn.tv e sulle pagine Facebook e Youtube della nostra emittente Grazie per l'attenzione Buonasera Al quadrifoglio A Sondrio Il punto di riferimento Per l'abbigliamento Classico e Casual Maschile Al quadrifoglio Potrai trovare Una vasta scelta Di abiti Camiceria Maglieria Calzature E accessori uomo Delle migliori marche Al quadrifoglio L'abbigliamento Maschile di qualità Al prezzo giusto Ci trovi a Sondrio In via Caimi 72 Telefono 0342 5149 71 Per te Donna Che cerchi nella moda Uno stile davvero personale C'è New Probabile Donna La boutique di Sondrio In via Mazzini 15 Dove puoi creare Il tuo look Al di fuori Delle tendenze E correnti dilaganti New Probabile Donna Da anni È il punto di riferimento Per chi ama Una moda semplice Con un tocco di glamour Un'eleganza Decisamente sofisticata Con la passione Per la ricerca Del dettaglio E della qualità New Probabile Donna Abbigliamento Borse Accessori E calzature A Sondrio In via Mazzini 15 Immaginari L'idea Che non avevi In testa A Sondrio In via Bonfadini 9 Barra Zona Stazione Orario continuato Dalle 9 alle 19 Giovedì Aperto fino alle 21 Appuntamenti Allo 0342 03 1235 Aperto fino alle 21 Aperto fino alle 21 Aperto fino alle 21